Siamo sull'isola d'Ischia e più precisamente a casa Micciola Terme. Il re Les Chateau Terme Manzi è una dimora storica, la cui costruzione risale nel 1863, per volere dei fratelli Manzi, i quali scoprirono le proprietà terapeutiche della fonte termale del Gurgitello. La mia famiglia ed io nel 2000 ci siamo innamorati di questa dimora e abbiamo deciso di ristrutturarla per ridare valore alle acque termali, puntando l'eccellenza sia nella struttura, nell'arredamento che soprattutto nel servizio, nell'accoglienza. L'obiettivo mio e della mia famiglia è il raggiungimento del benessere dei nostri ospiti attraverso l'utilizzo dell'acqua termale, quindi un benessere fisico ma anche spirituale attraverso i profumi, le sensazioni, i colori, le emozioni. E queste le ritroviamo senz'altro nella cucina del nostro chef, cucina emozionale perché riesce a soddisfare, oltre che al palato, tutti i nostri sensi. La mia cucina non vuole altro che esprimere un qualcosa che mi ricordo sempre del passato, un qualcosa che mi ricordo dell'infanzia. Io mi ricordo da piccolino, mi sono appassionato a questo mondo non perché guardavo la tv, non perché leggevo, ma perché comunque guardavo mia mamma e mia nonna che in cucina si divertivano come le matti. Un gran chef è un gran chef anche perché è una squadra che funziona veramente alla meglio, quindi i riconoscimenti vanno soprattutto anche a loro che entrano in una filosofia aziendale e personale mia e fanno in modo che le mie idee, i miei pensieri si possano attuare ed esprimere giorno per giorno. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di riuscire a donare qualcosa ai nostri ospiti che andassi al di là di tutto ciò che è gastronomia. Mi è intesa come un'esperienza di vita a tavola. Ogni volta faccio un piatto è come se mettessi nel piatto stesso un qualcosa di mio. Se un ischitano invita a mangiare qualcuno a casa, lo invita a mangiare e si mangia in cucina. Noi abbiamo reso questa realtà per far capire che tutto quello che arriva in tavola è fatto veramente con il cuore. Ciò che ci accomuna a Réle Chateau è lo spirito di famiglia, di casa, di accoglienza. L'ospite quando ritorna al Terme Manzi torna a casa, torna a trovare persone molto più familiari, più che professionisti. L'unicità del Terme Manzi è quella di trovarsi sulla fonte del Gurgitiello ed è da lì che noi traiamo la nostra forza per trasmettere benessere ai nostri ospiti. L'unicità del Terme Manzi è la nostra forza per trasmettere benessere ai nostri ospiti. L'unicità del Terme Manzi è la nostra forza per trasmettere benessere ai nostri ospiti.